Ho detto che ormai è arrivata la giornata che aspettavamo dal 13 luglio, perché ormai è un mese e mezzo che ci alleniamo a prescindere dalla partita di Coppa Italia. Ci siamo allenati, siamo stati un mese e mezzo di allenamenti proprio per arrivare pronti, il più pronti possibile a questa partita. Quindi la nostra determinazione, le nostre motivazioni devono scendere subito in campo perché se vogliamo essere protagonisti lo dobbiamo essere da subito e quindi mi aspetto una partita di grande concentrazione, di grande determinazione e poi potranno arrivare le difficoltà come è normale in tutte le squadre, ma se abbiamo la mentalità di poterle superare mentalmente possiamo e dobbiamo andare a fare una buona partita già all'Umezane. Ci sono i normali dubbi che penso che ogni squadra abbia quando tu non hai un grosso storico alle spalle. Noi fondamentalmente, a prescindere da qualche amichevole fatta bene o qualcuna fatta meno bene, sicuramente hai una sola partita ufficiale. fatta oltretutto quasi un mese fa, quindi è chiaro che non avendo uno storico hai i dubbi, la curiosità e la volontà di vedere già una squadra pronta come compattezza, come equilibrio, come voglia di andare a vincere già dalla prima. Mirko ha saltato il primo giorno facendo ancora cure e poi ha fatto tutta la settimana col gruppo quindi è assolutamente a disposizione per la partita. Vogliamo prendere un giocatore che sia importante, che sia importante per il gruppo, per la qualità di allenamento, per la qualità delle partite, quindi sapevamo già che l'addio di Stefano voleva dire l'arrivo di un centrocampista. No, ne abbiamo parlato più di una volta, poi è chiaro che il presidente era contento della partita di Perugia, allora pensava che fossimo a posto così. Invece purtroppo ne facciamo 38 di partite, quindi penso che il centrocampista è uno di quei ruoli dove penso che alla fine dell'annata anche quello che gioca meno fa 20 partite, perché è un ruolo importantissimo e sempre sono quelli dove rischiano qualche infortunio in più, qualche ammunizione in più e quindi spendono tanto durante una partita, quindi avere delle buoni ricambi a centrocampo penso che dia grossa qualità ad una squadra.